La Russia Ebbene ora questo paese è aggredito brutalmente con immensi danni e soprattutto con la morte di tantissime persone innocenti, donne, bambine, anziani, anche giovani uomini, ma anche quei giovani uomini dell'esercito russo che stanno perdendo in maniera anche consistente come numero la vita. E' veramente un dramma che ci tocca a tutti. E allora abbiamo pensato con Padre Anatoly che sta con noi ormai da parecchi anni e quindi noi lo consideriamo un fratello carissimo. Io oso dire come padre di questa chiesa un figlio. Padre Anatoly è la comunità ucraina che lui accompagna, oltre che naturalmente gli altri ortodossi, lui che è ucraino. E allora mi sembrava bello che insieme chiedessimo a Dio il dono della pace. Grazie a vostra eccellenza arcivesco metropolita di Chietivasto Bruno Forte per questo invito ad unirci nella preghiera per la pace in Ucraina. Vorrei dire grazie a tutti gli abruzzesi che in questi giorni hanno dimostrato solidarietà e sostegno al popolo ucraino. Non soltanto con la preghiera e con le parole, ma anche con i fatti concreti. Attraverso raccolte di aiuti umanitarie, di beni, farmaci, prodotti di primo soccorso, viveri per bambini, viveri per adulti. Ogni persona che veniva a portare questi aiuti umanitari nella nostra chiesetta a Chietiscalo, che 15 anni fa fu data a disposizione dal vostro arcivescovo alla comunità ortodossa del patriarcato ecumenico, che venivano e veramente avevano gli occhi lucidi, di lacrime, un gesto che supera le parole.